Cambio soprattutto nella testa e poi dare tutto. Nuova fitta da brividi questo giro di ritorno fatale poteva essere la sconfitta con Real Miramare, dove si è passati dall'1-3 al 4-3 finale. Ma poi col proseguo del campionato sono arrivati quattro sorrisi chiamati Poggio Berni, Colonnella, Granata e Rumagna, con in mezzo il pari di Miramare. 13 punti Cassina nell'ultimo mese, 13 come i gol di un super Stefanelli, tornato bomber di razza come ai tempi d'oro delle giovanili di Cesena. E domenica al comunale arriva la capolista Igea, partita da 1x2, ma chi azzeccherà il risultato sarà considerato indovino, dato il momento della compagine gialloblu. La partita con Rumagna è di alta aspettativa, padrone di casa ben messi in campo, Nuova Feltia, che danza su velluto quando in acrobazia di tacco colpisce con Sebastiani, ma è altrettanto spettacolare nel volo, il portiere Fabri, portierino, classe 1995. Solfrini agita lo spicchio di curva riservato a settore ospiti, con la conclusione murata dalla retroguaria del Nuova Feltia. L'assedio del Rumagna prosegue quando Gianfanti chiama la respinta di pugno all'attento Ronci e non accena ad arrestarsi quando lo stesso Solfrini trova un diagonale velenoso che Ronci respinge distendendosi alla propria destra. Stefanelli dall'altra parte cerca di riportare la partita in maneggiallo blu, ma la conclusione è da dimenticare, più preciso quando dall'angolo di Fraboni salta in cielo ma il suo colpo di testa viene neutralizzato da Fabri. Entriamo nel cuore della partita, Fraboni da calcio piazzato pennella una traiettoria a fendicotone con Fabri che con un balzo felino vola all'incrocio. Da rivedere la prudezza del fantasista di Nuova Feltia e la spettacolare parata del portiere di casa che ricorda Edesa, portiere dell'Arabia Saudita, ai mondiali USA 94. Ad inizio ripresa, Rumagna è pericoloso con questa punizione, sfera gettata al centro dell'area di rigore, ma sia Baccari che Gianfanti mancano all'appuntamento con i gol. Reazione di Nuova Feltia, Sebastiani al centro, Stefanelli a domestica, tiro di Cupi centrale, Fabri c'è. Preludio al gol, Fraboni dal solito a Mattonella chiama un altro volo plastico il portiere Fabri. L'azione dopo porta a una punizione, Amantini batte con scaltrezza, Cupi per un attimo usa piedi da fornaio e Stefanelli da operaio vero, getta in mezza rovesciata il pallone in fondo alla rete, c'è tutto, potenza, precisione e senso del gol. Minuti di recupero, in azionessa marinese si ripete, va via con un assolo personale, innesca il turbo, muscoli allo stato puro, resistenza da Walker, Texas Rangers, degli innocenti che vola a vuoto e Fabri che viene battuto per la seconda volta. Ora, per il tredicesimo centro è proprio il caso di mettere le ali, a chi la dedica? La dedico al mister, alla squadra e a tutti quelli che ci stanno vicini perché è una vittoria molto, molto importante. Salsi dall'altra parte ricorda la buona prova dei suoi e ci tiene a ribadire. Sono rimaste nove partite, sono nove finali per noi e ai ragazzi non si può dire nulla perché anche oggi fino al 95esimo hanno corso, hanno dato tutto quello che avevano, bisogna continuare così, sperando che la ruota giri, ma comunque sono nove partite, può succedere di tutto e non dobbiamo molare assolutamente niente. Non ho posto in classifica per i giallobru ospiti, penultima posizione invece per il Rumania, nove battaglie di fuoco, 27 punti ancora in paio, guai a mollare.